è che era una strada brutta io ci correvo puoi correrti nel momento in cui acceleravano li vedevo più quindi non sapevano neanche se correvo o cosa vado a fare una foto? allora non dirlo più è una cassone qui è vero fare una foto ah su morterone è vero che sei tutto quel palato ti ricordi? è vero ecco adesso è la galleria e poi c'è un morterone vuoi prendere questa serie eccoci qua resegone adesso potremmo provare a fare a salire sul resegone da qua chiudiamo si 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 mancherebbe mi sei passato un branco di capro di 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 pecore che bello qua è bello inizia anche l'inverno è proprio una ruota inizia anche l'inverno qui non ti fanno niente se credi non ce la vedi ti fanno o che pieghi cerca di prendere le driste e piegare a bassa velocità com'è? prendiamo casa Morterone ma questo era poco no? cosa fai? dai che non c'era foglie c'era qualche ramettino piccolino no? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.